Fratelli e sorelle, credo che da una parte è quasi inutile dire delle cose dopo aver ascoltato non soltanto il racconto della salita al Calvario di Gesù, ma anche di tutte quelle considerazioni, soprattutto quelle considerazioni che vengono dalle esperienze spirituali di Padre Pio. Quanto amore e quanta generosità nel suo cuore per condividere con Gesù la sofferenza, il dolore e soprattutto l'impegno di collaborare con Gesù per la redenzione dell'umanità. Questo perché nel cuore di Padre Pio c'era un grande, grande profondo amore per Gesù, per Maria, per il Padre. Il Padre che è nei cieli e che, secondo lui, aveva questo desiderio e dava quest'impegno a lui di essere in comunione totale con il Figlio suo Gesù per la salvezza dell'umanità. E vogliamo essere certi che il Padre ha accolto nel suo cuore questo dono che Padre Pio ha fatto della sua vita al Padre e ai fratelli. Ecco, vogliamo soprattutto considerare, viviamo proprio questo momento, quest'ora, l'ora in cui Gesù, secondo la sua parola, è stato esaltato. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E abbiamo fatto questo cammino. Siamo arrivati quassù. Io credo che, ecco, pensiamo quando è comodo questo nostro cammino. In rapporto a quel cammino che Gesù ha fatto verso il Calvario, pieno di difficoltà fisiche, di difficoltà per camminare. Per questo ricordiamo le sue cadute sotto il peso della croce. Ma soprattutto perché intorno a Lui non c'era certamente tutto quel silenzio, quel raccoglimento che abbiamo potuto vivere noi, salendo il Monte Castellano. Quante urla, quanti gridi, incominciando da quel grido forte che aumentava sempre di più, crocifiggilo, ma poi anche fino allassù, sulla croce, quando Lui era con le braccia allargate, quanti insulti, se sei figlio di Dio scendi dalla croce. e crederemo in Te. Quando a cattiveria, pensiamo anche dopo la morte, quella lancia che trafigge il suo costato, il suo cuore. Ecco, da tutto questo, che cosa è venuto da Gesù? La misericordia e il perdono. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora, ecco, vogliamo, in questo momento, ripensare a queste parole di Gesù. Vogliamo ripensare a tutto quello che Padre Pio ha vissuto. Ma soprattutto, ancora una volta, lo voglio ridire, pensiamo al dolore grande che Maria ha avuto nel suo cuore. Quella spada che Simeone aveva detto che avrebbe trafitto la sua anima è stata una spada dolorosissima, profonda, forte, che è arrivata, sì, fino all'intimo della sua anima e del suo cuore di madre. quante mamme, ecco, accompagnano i loro figli nella malattia. E noi, tante volte, tante mamme, hanno fatto in questo tempo l'esperienza di Maria. Non hanno tante volte potuto dare una carezza e un bicchiere di acqua ai propri figli. Ma Maria era lì. Ecco, i figli di oggi ammalati sono custoditi e assistiti. Il figlio di Maria è stato violentato, è stato così, insultato. E lei era lì. Tutto questo, fratelli e sorelle, per noi, per la nostra salvezza. E allora, in questo momento in cui ricordiamo proprio questo dono di Gesù al Padre, questa comunione di dolore di Padre Pio, della Vergine Santa, ecco, vogliamo fare un buon proposito. Prima di tutto, ecco, di essere nel nostro cuore, di custodire nel nostro cuore questo ricordo, di accogliere nel nostro cuore l'amore di Gesù, di essere con Lui nei momenti in cui dobbiamo affrontare qualche prova di essere nella comunione totale con Lui. Ma poi anche vogliamo, vogliamo con tutto il nostro cuore testimoniare questo amore nell'umiltà e nella semplicità di ogni giorno, nell'avvicinarci agli altri, nel diventare anche noi cirenei che aiutano i fratelli a portare la propria croce e nell'essere testimoni di questa umiltà e di questa semplicità di Gesù. Che la Vergine Santa e San Pio ci aiutino a realizzare il bene che il Padre chiede a ognuno di noi perché quel sacrificio di Gesù sia portatore di vita nuova, come vediamo in questa immagine del Gesù risorto che è ringiovanito, che dà quello slancio verso il cielo e verso l'umanità, anche noi possiamo vivere sempre questa giovinezza spirituale che porta la pace, la riconciliazione e il bene a questa nostra umanità. Amen. Preghiamo Esaudisci, Signore Gesù, la nostra supplica e ricolmaci di Spirito Santo affinché imitiamo il Tuo esempio facendoci servi dei fratelli mentre camminiamo verso l'ingondro con il Padre. Tu che vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo, Dio per tutti i secoli dei secoli, il Signore sia con voi. Per indeccessione di San Pio, della Vergine Santa e di San Giuseppe, vi custodisca il Signore, vi protegga e vi guidi sempre nella via del bene. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Benediciamo il Signore. Prendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio.